serve una terza figura l'insegnante ed è questo il punto in cui mettiamo insieme la critica e l'innovazione serve qualcuno che sia in grado di prendersi il chatbot metterlo accanto a sé attenzione non tenerlo distante deve tenerlo in classe vicino e utilizzarlo per fare quello che sa fare meglio cioè divulgare giornalista e gamer appassionato ha spaziato tra tv radio web e carta stampata trattando temi di economia tecnologia e scienza scrive di innovazione tecnologia per il sole 24 ore dove coordina la sezione tecnologia e fa parte della redazione scientifica di nova 24 fondatore di info data blog il blog di data journalism del sole 24 ore e non a caso insegna intelligenza artificiale per la scuola di formazione soli 24 ore recentemente ha pubblicato un libro che abbiamo qui la lezione è finita come intelligenza artificiale social media e realtà virtuale stanno cambiando il nostro modo di apprendere chi è luca tremolata che cosa che ha condotto a intervenire questo percorso di giornalista specialmente nell'ambito dell'innovazione della tecnologia allora è assoluto grazie della presentazione perfetta e grazie dell'invito allora io entro insomma divento giornalista alla fine degli anni 90 giornalista finanziario e però insomma dopo un'esperienza in televisione decido di buttarmi sull'innovazione sulla tecnologia il motivo è che insomma già alla fine degli anni 90 era chiaro che internet stava disintermediando determinati equilibri nel mondo editoriale e quindi la tecnologia e ce ne siamo accorti oggi più che mai cominciava ad avere un ruolo anche culturale cioè genera piattaforme e genera una sua economia al che per studiarlo ho pensato che la cosa migliore fosse quella di andare laddove nasce per cui ho avuto il privilegio di intervistare tutti i grandi innovatori sono andato negli stati uniti in cina ho girato e insomma da lì è nata la mia seconda vita che è quello del giornalista di dati e sono un data journalist per cui l'idea di intervistare i grandi modi di dati con la statistica e i software e l'altra seconda vita è quella di continuare a fare il giornalista economico e scientifico per cui insomma è stata una una scelta in corso d'opera cioè dalla finanza al capire esattamente come funzionano i grandi luoghi dove si crea l'innovazione dove vengono presentati prodotti e servizi ok allora io vorrei partire se se tu sei d'accordo sul partire dal tuo libro la lezione è finita ripeto come intelligenza artificiale social media e realtà virtuale stanno cambiando il nostro modo di apprendere la prima domanda è come nasce diciamo questa è questa volontà di scrivere questo libro che tocca anche dei temi diciamo se vogliamo complessi ma anche delicati perché a fare con il mondo appunto del dell'apprendere no della coscienza allora nasce da un disturbo di personalità nel senso che vedete conto che alla fine degli anni 90 la mia generazione o più di 50 anni pensava o si è convinta che la propria cameretta fosse il luogo migliore per apprendere cioè nel momento in cui nella cameretta degli studenti entrato uno schermo un pc e la connessione a internet beh quel luogo è diventato stimolante magari più a più anche di una classe di una lezione frontale classica perché perché avevamo la possibilità di di andare direttamente sulle fonti di parlare con i professori universitari di leggere direttamente ciò che era digitalizzato in quegli anni si cominciava a digitalizzare tutti insomma c'è stata una sorta di positivismo digitale dove pensavamo che le tecnologie ci avrebbero permesso di imparare di più e meglio poi cosa è successo è successo che mio figlio che ha nove anni l'ho beccato controllare quello che gli dicevo su CERGBT se fosse proprio l'ho beccato e diciamo ma vediamo se papà ha ragione no? e lì un dubbio è arrivato e il dubbio era ma l'orrore di tutti i genitori l'orrore di tutti i genitori che cosa succede perché insomma fin quando lo fai col papà va bene ma se lo fanno con gli insegnanti? cioè che cosa succede a quella straordinaria opportunità di apprendimento che è stata la tecnologia nel momento in cui da strumento diventa oracolo cioè da strumento diventa un compagno di banco secchione come l'ho definito sul libro che tiene sempre la mano alzata e risponde ma è sostanzialmente inaffidabile perché inventa le cose da lì ho cominciato a da qui parte quindi il libro quindi domandarsi insomma che fine faranno no? come impareremo ad apprendere ed è dedicato chiaramente alla generazione Z e figli della generazione Z e lì sono andato a studiarmi tutta la letteratura scientifica per cui sono andato a vedere gli studi per capire insomma quale fosse il cosa sappiamo della nostra capacità di come sta cambiando la nostra capacità di imparare e quello che è messo è che sostanzialmente le ultime generazioni apprendono meno i risultati PISA ci dicono che siamo più scarsi, sono più scarsi in matematica italiano che in qualche modo il sistema forse del scolastico dei paesi ricchi parliamo di OX parliamo dei paesi industrializzati insomma sta avendo dei problemi l'altra cosa che scopriamo è che di fatto c'è un pensiero automatico di chi è la colpa? ti ricordi la generazione fragile insomma le ultime generazioni sono state descritte come generazioni fanno fatica non solo nell'apprendimento ma anche nella gestione della salute mentale ma anche nella gestione dell'ansia e quello che emerge che il pensiero automatico è colpa della tecnologia no facile no? di fatto la grande discontinuità qual è stato? il fatto che mio papà non è cresciuto con un cellulare in mano neanche io sono cresciuto con un cellulare in mano loro cresceranno con un cellulare in mano non solo cresceranno con un chatbot con una forma di intelligenza artificiale che attenzione mentre la mia e la tua generazione ha imparato ad andare su internet con i motori di ricerche ad avere come risposte una serie di link loro molto probabilmente avranno delle risposte in linguaggio naturale questo cambia tutto perché un conto è voglio sapere cinque posti da visitare a madrid e ho cinque link i primi tre sono in blu e quindi so che pagano gli altri sono quelli più popolari un conto è uno che ti dice vai qui vai lì cambia cambia tanto cambia il potere diciamo di persuasione di questi strumenti cambia soprattutto se queste domande non sono solo devo comprare qualcosa consigli per gli acquisti ma mettono anche in discussione valori idee politiche altre cose allora lì c'è una riflessione che va apposta e il libro nasce appunto per cercare di dare una forma a questa riflessione allora guarda ho parlato tantissimo no 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 assolutamente questa cosa diciamo quanto mi dicevi in qualche maniera si ricollega a quanto volevo chiederti ovvero il tema appunto anche del pensiero critico tu a un certo punto prendo ispirazione diciamo ad alcuni passaggi del tuo libro in cui citi questo studio di TGM Research in cui dice appunto che il 60% degli studenti italiani tra i 16 e i 18 anni utilizza l'intelligenza artificiale per apprendere e il 33% no per fare compiti e il 33% per apprendere però anche sulla base diciamo di quanto stavi dicendo tu adesso il fatto di diciamo ci sono sicuramente dei vantaggi e nel caso discutiamone ma ci sono anche diciamo delle delle complessità che dovranno essere gestite perché tu prima dicevi ci sono cioè l'intelligenza artificiale al momento è fallace cioè si parla comunque di allucinazioni di intelligenza artificiale questa cosa qui in qualche maniera può intervenire anche proprio sul sul non solo sul processo di apprendimento ma anche sul pensiero critico allora cominciamo a dire questo tutti gli studenti stanno utilizzando ormai l'intelligenza artificiale usciamo dalla dalle ipocrisie è normale che le nuove generazioni hanno una capacità di adattamento alle nuove tecnologie superiore alla nostra per cui questo strumento ce l'hanno già in mano come lo usano quello che si è capito è che nelle scuole istituti tecnici nei licei lo stanno utilizzando come una sorta di vicino cioè l'intelligenza artificiale capisce le mie lacune e quindi lo utilizzo per una sorta di tutor no lezione di riparazione no per cui me lo rispieghi me lo rispiegono altra volta perché l'aspetto stra interessante poi arriviamo alla parte critica di questa tecnologia e che ripete quante volte vuoi cambiando anche il modo se non capisci e soprattutto in grado di capire se tu hai delle difficoltà in alcune materie che cosa non hai capito straordinario questo passaggio a livello universitario fanno un po più fatica perché dici vuole creatività non c'è il modello del vicino che invece è chiaro a tutti gli studenti medi per cui lì si sta ancora sperimentando cercando di capire quanto può utilizzare poi devo quello che dici tu in questo momento le attuali diciamo gli attuali chatbot le quali modelli linguistici di grandi dimensioni sono soggetti ad allucinazioni cosa vuol dire vuol dire che sbagliano non sono corretti e spesso quando non sanno una cosa se la inventano allora detto questo sono un sacco di cose sono grandi divulgatori e quindi serve una terza figura l'insegnante ed è questo il punto in cui mettiamo insieme la critica e l'innovazione serve qualcuno che sia in grado di prendersi il chatbot metterlo accanto a sé attenzione non tenerlo distante deve tenerlo in classe vicino e utilizzarlo per fare quello che sa fare meglio cioè divulgare alcune realtà ed in divulgarle a getto continuo pensiamo alle disabilità pensiamo alle persone che hanno bisogno di tante ripetizioni questi sono strumenti straordinari però ci vuole ed è questo il senso del libro ci vuole una nuova generazione di insegnanti sono sicuramente più soldi per la scuola diciamo subito ma ci vuole una nuova generazione di insegnanti che abbracci fortissimo questa tecnologia e impari a raccontarla spiegando attenzione non è un oracolo sbaglia per cui dovete controllare quello che vi dice ma la sappia sfruttare al meglio perché ed ho un numero faccio il giornalista finanziario su questa tecnologia hanno fatto all in non è il lavoro del giornalista è sempre quello di chiedersi cosa potrebbe andare male ma temo che non nulla andrà male verranno migliorati ci saranno sicuramente tra un paio di anni non ci saranno i chatbot che conosciamo adesso ci saranno dei chatbot specifici per la scuola però questa è una tecnologia trasformativa che entrerà nella vita di tutti e quindi dovremmo fare i conti i conti con questa tecnologia l'unico soggetto che è in grado di fare da pivò come a basket di passare la palla è l'insegnante perché le famiglie insomma hanno già tanti problemi lasciamole da parte i ragazzi metteranno le mani necessariamente la scuola e gli insegnanti sono il punto di snodo di tutto il pubblico quasi ritorno al discorso del pensiero critico l'insegnante dove venire diciamo per far sì che appunto i ragazzi siano in grado poi di analizzare in maniera critica anche le le informazioni che verranno diciamo assorbite attraverso l'intelligenza artificiale allora un altro punto che tu tocchi che io trovo particolarmente interessante quando parli della realtà virtuale della realtà aumentata in qualche maniera sono strumenti che grazie diciamo ovviamente siamo ancora in una fase di crescita se vogliamo di queste di queste tecnologie però possono trasformare in maniera molto impattante il diciamo l'esperienza didattica tradizionale come in tutte le cose ci sono i pro e contro da un lato sarà un'esperienza immersiva che comunque consentirà anche di aiutare gli studenti semmai con qualche complessità di apprendimento in più però dall'altro il contro potrebbe essere entrare in una sfera se vogliamo in una palla dove poi diventa difficile uscirne certo quindi non lo so dal tuo punto di vista come la vedi diciamo questa evoluzione allora cominciamo a dire che ad oggi i caschetti costano con un sacco di soldi non sono perfetti tecnologicamente i caschetti per la realtà virtuale e quindi insomma vedo difficile dato un visore vedo difficile insomma che dall'oggi al domani tutti quanti andremo a scuola per indossare la realtà virtuale e vivere in un mondo simile al videogioco magari studiare la storia piuttosto che entrare con approcci diversi verso la chimica verso le le scienze naturali o le scienze dure quello che certo però è questo quando sei in un mondo in tre dimensioni si attivano i neuroni gps che abbiamo qui dietro e che sostanzialmente hanno scoperto essere importantissimi per l'apprendimento cioè che cosa vuol dire vuol dire che se noi siamo in un mondo in tre dimensioni in questo momento io ti sto guardando vedo il tuo volto e quello che ci stiamo dicendo mi resterà molto più impresso se invece di vederci di persona ci fossimo incontrato per esempio in una videoconferenza a telecamera spente cioè noi impariamo quando ci emozioniamo e quando siamo in un ambiente in tre dimensioni per farla molto semplice allora lì dentro proprio perché si attivano questi neuroni ci sono delle possibilità di imparare in modo diverso e con una didattica diversa alcune cose per cui in questo momento un business per pochi per pochissimi però un domani nel momento in cui le tecnologie dovessero diventare più buon mercato i visori i caschetti dovessero diventare insomma delle commodities ecco allora lì si nasce che avverrà preso bene avverrà insomma ci vorrà un po po di anni perché adesso costano ancora troppo però potrebbe essere una nuova leva nelle mani della didattica bene allora innanzitutto grazie perché hai dato diciamo dei tratti delle ispirazioni comunque utili anche proprio spero una riflessione generale io diciamo come di consuetudine lascio diciamo il mio ospite la persona con la quale ho fatto la chiacchiera con una domanda se vogliamo complessa ovvero se ti va di condividere un contenuto che per contenuto intendo sempre in senso ampio questo libro un film un podcast una canzone quello che vuoi che in qualche modo ti ha ti ha riguardato che pensi che abbia avuto un valore per te nella tua vita nella tua esistenza allora io ho un difetto che sono una persona che è innamorato della fantascienza e per me il contenuto diciamo il film dirò che in un certo senso mi ha spinto anche fare il lavoro che faccio è blade runner perché non tanto perché è un'anticipazione rispetto a molte cose che poi sono successe ma perché noi e tutti abbiamo bisogno di un immaginario cyberpunk e per interpretare un po la realtà e alle volte la politica la capisci più ipson voce esatto permette di rato e alle volte alle volte se proiettiamo quello che ci capita in un altrove al di fuori del nostro tempo e del nostro spazio e forse ci permette di capire meglio ciò che è giusto ciò che è sbagliato cioè nel nei film di fantascienza al buono il cattivo è chiaro e forse abbiamo bisogno di quella prospettiva alle volte per per capire anche quello che ci sta succedendo per uscire dalle complessità dell'attualità io ti ringrazio davvero di nuovo e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito fin qui alla prossima puntata dalla advocacy hub di milano arrivederci grazie